Diamo la parola a Stefano, al quale chiediamo scusa perché loro hanno concluso da tantissimo tempo i lavori della Commissione, però voglio dire... No, certo, se ci dice non è valido, insomma, dovremmo chiedere scusa alle delegati. Allora, in qualità di Presidente della Commissione Verifica Poteri del Congresso della Filtem, do lettura del verbale della Commissione, che è stato approvato con un voto contrario del rappresentante, diciamo, del documento, il sindacato è un'altra cosa, che ha legato anche una dichiarazione di voto, nella quale però precisa sostanzialmente che condivide le procedure però a una posizione di dissenso politico di carattere generale. Quindi do lettura con questa premessa, do lettura del verbale. La Commissione Verifica Poteri, eletta dal secondo congresso della Filtem CGL, riunita a Perugia nei giorni 8, 9 e 10 aprile 2014, composta da Maurizio Bertona, Stefano Varmi, Mara D'Ercole, Aldo Zago, Sonia Tosoni e Aurora Bulla, ha analizzato i verbali dei congressi regionali e dei congressi territoriali delle regioni che non hanno istanza regionale, rilevando la piena conformità fra i delegati eletti ai congressi e i delegati accreditati al congresso nazionale. La Commissione Verifica Poteri, nominata al secondo congresso della Filtem CGL, ha constatato che sono presenti 480 delegati, di cui 189 delegate, quindi donne, pari al 39,38% e i 480 delegati rappresentano il 90,56% della patria congressuale nazionale, quindi di quelli che avevano titolo. Pertanto la Commissione dichiara valido il secondo congresso della Filtem CGL e auguro a tutti buon proseguimento dei lavori. Grazie. Grazie, Stefano. Siamo ovviamente più tranquilli, non abbiamo sprecato questa giornata e mezzo. Allora, mi ero dimenticato di chiamare alla parola Massimiliano Muretti, chiedo scusa. Si prepari Angelo Vaccaro, siccome l'hanno scritto bene, gli chiedo scusa. Scusate. Buonasera a tutti. Massimiliano Muretti, sono il segretario generale della Filtem di Porto Torres. Intervengo perché Emilio nella sua relazione ha citato il mio territorio almeno due volte. L'ha fatto una volta in esplicito e una volta nei ragionamenti collegati alle questioni energetiche. Io parto dalla seconda, dalla parte che riguarda le questioni energetiche, per le quali non ha citato in esplicito il territorio, ma relativamente ai riferimenti fatti agli elementi dati nella relazione, lo ha chiamato in causa in maniera evidente. Emilio ci ha detto, ci ha raccontato, lo ha detto nella sua relazione, credo che siano dati che in realtà conoscevamo, ma sono stati riproposti e acquistano un senso e un significato differenti quando fatte in questa assise. Quali sono i rapporti tra noi e gli altri stati in ragione delle produzioni di energia elettrica? Quali combustibili utilizziamo e in che modo li utilizziamo? E ha reso evidente qual è il gap che noi paghiamo nei confronti di paesi, di nazioni, come in particolare la Germania, in cui l'utilizzo del carbone è determinante nello sviluppo dell'industria di quel paese. È chiaro quindi che relativamente alle questioni dette da Emilio nella relazione, noi dobbiamo avere la capacità di dire una cosa con chiarezza. Non dobbiamo avere timore di dire che dobbiamo migliorare, quantomeno mantenere, se non addirittura aumentare, la produzione di energia elettrica da carbone in Italia. E questo non vuol dire uscire dalle logiche proposte anche all'interno del documento politico. Significa semplicemente avere la capacità di leggerle e portarle a sintesi nella consapevolezza che la fase di transizione, quella che ci dovrebbe portare fuori dal carbone, non può essere fatta alla canna del gas, per usare l'idea di un altro combustibile come metafora. Noi cioè non possiamo immaginare di far sì che le aziende energivole, molte delle quali lavorano i lavoratori che noi rappresentiamo, possano reggere la competizione del mercato internazionale, dovendo acquistare energia elettrica a costi che non sono paragonabili a quelli del resto d'Europa. E siccome abbiamo deciso due volte di abbandonare il nucleare, perché l'abbiamo fatto due volte, noi non possiamo immaginare di fare energia elettrica a bassi costi e di farlo con le rinnovabili che oggi non garantiscono questo. Dobbiamo fare la fase di transizione, la dobbiamo fare con intelligenza, la dobbiamo fare sapendo che investimenti sul termoelettrico, anche questo ha detto Emilio, devono essere fatti, si devono realizzare, e si devono realizzare per aumentare l'efficienza dei nuovi impianti e degli impianti che ci sono, e per abbattere le emissioni degli impianti attualmente esistenti, perché si può produrre da carbone emettendo meno CO2 di quella che oggi si emette producendo da carbone, perché dipende dall'efficienza che l'impianto ha, dal suo consumo specifico e dal suo rendimento. Questa cosa va detta così com'è. E in che cosa ha quindi citato il territorio? Lo ha citato perché Porto Torresi è un territorio strano, c'è da una parte la chimica verde e dall'altra c'è la vertenza E.ON, della centrale termoelettrica di Fiume Santo. Noi di Fiume Santo, oggi il compagno di Terni, ma non solo lui, ha citato la questione di E.ON e il fatto che le multinazionali scappano dall'Italia, vanno via dall'Italia, che la Germania richiama le sue multinazionali dall'Italia. In realtà questa è la seconda fase di ciò che ha fatto la Germania. La prima fase è dire alle sue multinazionali che in Italia non devono investire. Dire alle sue multinazionali che gli investimenti vanno fatti in Germania. E.ON a Fiume Santo è l'unica azienda che detiene un'autorizzazione per la realizzazione di un nuovo impianto a carbone e nelle mani di E.ON da ormai tre anni sostanzialmente. Non fa l'investimento e non lo fa non perché non è remunerativo o perché ci sono opposizioni locali, perché quella è l'unica autorizzazione senza nessuna opposizione, neanche delle popolazioni. Non lo fa perché la Germania ha prima detto a E.ON di non fare l'investimento e ora gli sta dicendo qualcuno sostiene di andarsene. Beh, ad E.ON di andarsene noi gliel'abbiamo scritto e detto noi E.ON nel nostro territorio non lo vogliamo più. E per me questo non è un problema, perché non è in assoluto un valore avere delle multinazionali in Italia. Per me quel che conta è ciò che le multinazionali fanno. Se vengono qui per consumare il territorio, consumare la tecnologia, le risorse, gli uomini e le donne del nostro territorio, gli impianti e il territorio, non portano valore, consumano valore. E se vengono con questa logica, per me, per noi, se ne devono andare. E quindi io plaudo al fatto che E.ON vada via. Nel mio territorio questa è la scelta e sono convinto che sia la scelta corretta. La questione energetica è delicata. Il tema del gas è un tema sensibile a tutti noi. Il territorio in Sardegna ha maggior ragione. Noi non abbiamo il metano. Siamo l'unica regione d'Italia a non averlo, credo. Ma questo non significa le questioni che dicevo prima per il carbone, che non vogliamo il metano, siamo contrari all'utilizzo del metano. Va detto con chiarezza che il metano va utilizzato come fonte di energia termica, non per produrre energia elettrica, come a un certo punto in Italia si è fatto, perché è diventata una moda, perché le nostre industrie italiane seguono le mode e di moda a fare i cicli combinati, tutti a fare i cicli combinati, che oggi stanno fermi, lo ha detto anche Emilio in relazione. Il metano è una risorsa, bisogna investire sui rigassificatori, bisogna farli dove è possibile farli. La Sardegna è uno dei luoghi in cui, a mio giudizio, è necessario fare un rigassificatore per portarvi il metano, è fondamentale per lo sviluppo delle filiere che questa combustibile può dare, non va in contraddizione con le logiche della CGL e della categoria, anzi. E va detto però su questo versante che io non sono d'accordo che la sola carta che possiamo spendere in Italia è quella delle rinnovabili. Noi dobbiamo spendere anche la carta delle estrazioni. Abbiamo prodotti nel sottosuolo, gas e petrolio, e noi dobbiamo essere convinti che quei prodotti dal sottosuolo debbano essere estratti ed utilizzati nell'energia e nelle produzioni. Non ha, non è, lo diceva un compagno ieri, il chilometro zero non può valere solo per la carotta o per la patata. Deve valere anche per tutti quei prodotti di cui abbiamo disponibilità e che, per ragioni che non hanno niente a che vedere con l'ambientalismo, quello serio. Non sfruttiamo, forse perché politicamente poco corrette o perché non verremmo capiti e noi invece dobbiamo sforzarsi di essere capiti. Siccome sono stato richiamato e mi è stato detto che ho due minuti, devo citare qual è l'altra parte delle questioni dette da Emilio in relazione che riguardano il mio territorio. Emilio ha citato la chimica verde, e Porto Torres è il luogo in cui oggi in Italia si sta realizzando per davvero una produzione di chimica verde. Anche lì bisogna avere la capacità di accompagnare questo processo. fino in fondo non basta applaudire per il fatto che abbiamo sottoscritto un bel accordo. Poi quell'accordo va seguito e gestito e il rapporto con la multinazionale italiana, l'ENI, su questo tema va gestito e seguito giorno per giorno, istante per istante, anche in rapporto dalle questioni energetiche che non sono distanti dalle questioni della chimica. Io sono un elettrico per così dire, sono un dipendente della centrale termolettrica di Fiume Santo, ma ho imparato quando la FNLE e la Filcea si sono fuse e hanno costituito la Filcem, quanto importante fosse il rapporto fra le raffinerie e gli impianti chimici è come il tema che oggi riguarda le raffinerie e la difficoltà che oggi hanno le raffinerie è figlio anche della debolezza della chimica perché di quei prodotti dal petrolio oggi in Italia si sviluppa solo una delle filiere che il petrolio dà ed è quella dei combustibili ma poi c'è tutta la parte chimica che ormai è inutilizzata scarsamente sfruttata e questo indebolisce le raffinerie le indebolisce in maniera pesante eppure c'è stato un tempo in cui qualcuno sosteneva che una parte si poteva abbandonare perché intanto la poteva fare qualche di un altro sulla chimica verde per cui bisogna sì insistere avendo la consapevolezza che non dobbiamo commettere gli errori fatti sulla chimica tradizionale però cioè non possiamo immaginare di fare chimica verde in ogni posto d'Italia in alternativa di ogni colonna di stripaggio o di lavorazione di chimica tradizionale perché se facciamo così rispezzettiamo la filiera e la rindeboliamo facendo impianti piccoli troppo piccoli per essere competitivi so di rubare un ultimo minuto solo uno davvero perché un cenno sulla contrattazione lo voglio fare oggi lo dicono tutti che abbiamo fatto bene ad avviare la stagione dei contratti non è sempre andata così e adesso che quella stagione avviata ha portato i frutti che solo alcuni di noi anche in Filtem riteneva fosse giusto avviare io ho un po' di difficoltà a vedere un sacco di gente su questo carro lo dico esattamente così come la penso l'idea l'idea che per rafforzare il ruolo del contratto collettivo nazionale di lavoro fosse quella di farli i contratti collettivi nazionali di lavoro è una roba che riguarda la Filtem e per un periodo lungo non tutta la Filtem ebbene ricordarlo ma non per segnalare al compagno sbagliavi perché non è questo la CGL ma perché questo ci deve aiutare a riconoscere un ruolo fondamentale che io credo noi abbiamo da sempre che è appunto è quello di contrattare non c'è un altro ruolo il sindacato questo fa fa contrattazione per fare contrattazione fa le vertenze fa gli sciopperi esprime posizioni politiche ma lo fa per contrattare non lo fa per un altro fine o secondo un'altra ragione ti ringrazio grazie massimiliano angelo vaccaro non dà segnale di presenza non è che è rientrato Carelli no cominciamo a cancellare bernardo marasco filcete mario rizzuti filcete mesiracusa ambra tessera lombardia ma la colpa non è dei delegati e delle delegate è dei singoli territori e delle commissioni che si riuniscono cioè i congressi si fanno fuori dalla sala dove invece si dovrebbe dibattere quindi bisogna pensare a un modello congressuale diverso perché più cose insieme non si possono fare compagni Antonio Daniele azienda Pfizer territorio di Latina ho sentito un eccomi oh siamo fortunati buonasera sono Antonio Daniele un RSU Pfizer nonché anche RLSA quindi ero anche molto attento a quelle che erano le problematiche della sicurezza sul posto di lavoro perché mi accingo da poco anche ad occuparmi di questa tematica per quanto riguarda una particolare categoria e ringrazio appunto la disponibilità che mi è stata offerta per presentare da questo palco questa categoria è quella degli informatori medici molto spesso vediamo visti come dei rompiscatole perché in realtà pur facendo parte della categoria della Filtem e quando entriamo negli ambulatori siamo quelle persone fastidiose che spesso per presentare il farmaco dal medico rubano il posto per così dire al paziente quindi siamo delle persone moleste in realtà abbiamo un ruolo fondamentale contrariamente a quello che si può pensare perché in realtà l'unico modo per vendere i farmaci o meglio per proporre i farmaci al medico ci sono due possibilità o li presentiamo noi in modo indipendente perché contrariamente a quello che si pensa noi siamo una categoria che è regolamentata e molto molto serio da parte dello Stato forse siamo quelli più intercettati al mondo anche come cellulari non a caso siamo stati noti soltanto per il fatto di quando sono state le retate su quelle che erano insomma dei modi illeciti di proponare il farmaco ma questo è il motivo per cui in effetti siamo altamente controllati guardate finanza eccetera eccetera però la promozione del prodotto e questo è importante fra del fatto se non lo facciamo noi come informatori medici l'altra categoria che lo fa è la categoria che è interessata alla vendita ai farmacisti e quindi la domanda sorge spontanea il paziente è più tutelato se l'informazione è indipendente o se l'informazione è fatta da chi è interessato alla vendita del prodotto faccio questa osservazione perché in realtà mentre noi diciamo un po' per tipologia di ruolo che ricopriamo siamo un po' poco rappresentati e visibili anche all'interno della Filtem se noi fossimo fisicamente all'interno di un'azienda oggi che siamo stati falcidati da licenziamenti saremmo 16.000 cioè un'azienda bella grande ma ahimè siamo distribuiti su un territorio in modo tale da essere così polverizzati che non siamo praticamente visibili non solo agli altri ma anche a noi stessi e quindi il motivo per cui mi trovo su questo palco è anche per sensibilizzare un po' la Filtem nazionale che devo dire ha già iniziato ad interessarsi a noi sia da parte di Miscelli abbiamo fatto un incontro ma anche Falcinelli che è responsabile ma per ribadire che a mio avviso l'unico modo per rimettere sul tappeto le problematiche della nostra categoria è quella di renderla coesa e per rendere coesa una categoria che non ha una sede fisica dove incontrarsi come la fabbrica l'unico modo è il web noi abbiamo bisogno e questo lo chiedo alla Filtem di un portale di un sito web dove far confluire tutte quelle che sono i dibattiti i confronti eccetera che normalmente avvengono in una fabbrica sono certo che come è accaduto per molti siti indipendenti sul web sarebbe uno dei siti più visitati e sicuramente punto di aggregazione anche di migliaia di lavoratori che oggi non sono rappresentati fisicamente e anche visivamente ma torniamo all'importanza di questo ruolo come dicevo se non è l'informatore che va dal medico ci deve andare un'altra figura a vendere il prodotto e ci va a questo punto il farmacista farmacisti che hanno già fatto il 24 marzo un incontro un congresso supportato da About Pharma che è un'associazione di categoria che praticamente ha già proposto al governo e alle aziende farmaceutiche la sua professionalità come alternativa all'informazione medica cioè licenziateli tutti associamo la farmacia alla medicina di gruppo e poi ci penso io farmacista a proporre il farmaco meglio di così dalla produttora al consumatore direttamente cioè che garanzie ha più il cittadino che si dia il farmaco qualitativamente migliore sul mercato o che si dia il farmaco idoneo perché attenzione faccio un esempio estemporaneo per quanto riguarda la cura nel posto infarto si usano le cosiddette statine ce ne sono centomila non sono tutte uguali ma se il farmacista è in giacenza un prodotto e lo deve smerciare lo fa smerciare non è più il medico che decide sul suggerimento dell'informazione ma è il mercato del farmacista che va direttamente a incontrarsi con il medico abbattono i costi ma il costo lo paga il paziente che non è curato adeguatamente questo è importante metterlo in evidenza veniamo alle aziende cosa stanno facendo le aziende in questo momento si vogliono liberare degli informatori medici perché ovviamente l'informatore medico deve soggiacere ad alcune regole e hanno creato adesso alcuni ruoli cosiddetti dell'accesso che vanno ad incontrare direttamente i decisori quindi si incontrano i direttori generali gli assessori i ministri con cui si concordano le famose linee guida perché deve andare uno a convincere il medico che il farmaco è buono quando c'è un ministro che scrive sulla carta che o usi quello o non ha nient'altro da usare è molto più semplice basta uno a uno più facile anche che però si creino dei forti dubbi su influenze parallele e che a dire della ricerca ho partecipato a un incontro nella mia azienda dove il capo mondiale di Pfizer parliamo dell'azienda più grande al mondo che investono 7 miliardi di dollari all'anno in ricerca e sviluppo che asseriva in modo molto candido che il futuro della ricerca sul cancro mira a cronicizzare la malattia che strano perché guarirla? si cronicizza più facile più redditizio che a dire del fatto che non si investono più in ricerca e sviluppo di nuovi antibiotici perché? non servono è una malattia acuta il paziente lo prende guarisce e non consuma più gli azionisti non hanno nessun interesse e qui entra il ruolo dello Stato come diceva un mio collega al compagno che parlava di ricerca e sviluppo cosa fa lo Stato in questi ultimi anni? assolutamente nulla dà soltanto la polpa alle aziende lo Stato come l'Italia cito Pfizer versa alla Pfizer per ovviamente i farmaci venduti un miliardo e mezzo di euro all'anno cosa chiede in cambio? nulla vuoi licenziare? licenzia non vuoi ricercare più in antibiotici? non lo fare è grave uno Stato dovrebbe indirizzare anche la ricerca contrattare con le multinazionali che fanno ricerca e sviluppo quello di cui ha bisogno io ti do la polpa e tu mi dai anche l'osso ho bisogno di nuovi antibiotici ti sto dando un profitto alto su farmaci oncologici per allungare la vita di pochi mesi si spendono anche 50-100 mila euro a paziente di pochi mesi adesso ricercami qualcosa che diventa utile per salvare il resto della popolazione non si campa solo di patologie croniche ci sono anche le patologie acute oggi c'è il nuovo filone delle malattie rare dove in tempi rapidissimi si ottengono brevetti si fanno grandi profitti ma non si cura e si guarisce nessuno si dà solo speranza si vende speranza che è la cosa gravissima e quindi concludo ribadendo il discorso iniziale quando l'informazione medica viene meno ricordatevi che viene meno tutta una sovrastruttura vengono meno gli impiegati magazzinieri ma fondamentalmente viene meno l'interesse di un'azienda nell'investire in quello stato quando non c'è informazione medica quando il medico non serve più per prescrivere lo stato è stato trasformato in una macchina da mungere non ho bisogno di fare ricerca non ho bisogno di fare nulla ho già i prodotti li presento al ministero al direttore generale me li vendono e su tutto guadagno quindi è importante ribadire il ruolo dell'informatore che è un ruolo indipendente che tutela il cittadino se noi siamo dei rompiscatole perché lo stato non ci ha mai regolamentati siamo invisibili anche allo stato e quindi è importante dare questa visibilità sul web in modo da creare un'aggregazione quindi anche un'azienda online dove tutti gli informatori possano confrontarsi possono aggregarsi e possono anche lottare per migliorare e concorrere a migliorare anche quella che è la sanità di cui tutti a prescindere ne fruiamo io compreso e quindi è importante questo ruolo è importante ostacolare anche il ruolo del farmacista che sempre di più prende piede non perché dobbiamo punirlo ma perché sta diventando una lobby molto potente alcuni farmacisti sono presenti anche come ministri e quindi pilotano ve lo posso garantire con il loro lobby e indirizzano la politica sanitaria non verso una sanità sostenibile e efficiente ma verso una sostenibilità utile ai propri interessi grazie grazie a te Antonio se c'è scarcia Stefania scarcia non c'è è rientrato Bernardo Marasco e ha la parola si prepari Bellucci Mauro ma io quando ho cominciato a seguire le aziende diciamo della moda ho cominciato una delle prime cose che mi colpiva era che il il prodotto capivo che il prodotto che doveva essere fatto la caratteristica che doveva avere non era quella di soddisfare il cliente ma di perpetuare il bisogno del cliente cioè il prodotto viene fatto per continuare a produrre il bisogno del cliente cioè la caratteristica che le aziende diciamo che hanno brand fanno cioè il prodotto non deve soddisfare quindi quietare il bisogno di consumo ma incrementarlo ho come la sensazione che questa modalità di rapporto con il destinatario finale sia una modalità che è passata nel mondo della rappresentanza cioè la funzione della rappresentanza non è soddisfare un bisogno del rappresentato ma tendenzialmente eccitare il rappresentato eccitarlo farlo sembrare questa cosa pone io penso se questa è una ci costringe una riflessione drammatica su quello che è quella discussione perché se ne facciamo un'altra o facciamo finta di farne un'altra per fare quella ci portano via un mio compagno l'altro giorno mi ha detto ma noi in questa macchina siamo a guidare siamo quell'accanto che legge il copilota siamo dietro con la idarra accennare battisti e uno ha detto siamo moro sparato nel bagagliaio della Renault cioè in questo passaggio dove siamo noi lo stiamo governando un modello di riforma sindacale cioè ci stiamo chiedendo qual è il modello sindacale e stiamo guidando la nostra idea di riforma io penso che questo sia il primo punto lo dico perché ovviamente e cerco ovviamente di tutti gli spunti che ci sono nella relazione di Emilio io ne sfrutto uno solo diciamo perché ovviamente la relazione di Emilio ci pone esattamente su tutti i temi prettamente negoziali di categoria lo sfondo di qual è quella riflessione sul ruolo sindacale e in particolare io me lo sono come dire ho sono letto stamattina perché sono arrivato tardi ieri e quindi lo sono potuto un po' sottolineare nella relazione io penso che nella relazione di Emilio si evidenzi un rapporto un'attenzione al rapporto ha un rapporto diverso col territorio cioè si fa presente in termini di politiche industriali quanto la competitività passi più da un sistema integrato tra territorio e impresa che direttamente da una caratteristica dell'impresa stessa e questo ci mette in gioco come elemento sindacale perché come presenza sul territorio siccome giustamente noi rivendichiamo di essere l'unico soggetto che sul territorio sta ed è presente nel senso che lo presidia perché rendiamoci conto che in questa discussione sulle realtà della rappresentanza l'unico luogo che presidia il territorio come luogo fisico penso sia rimasto solo la CGL come presidio del territorio il tema di come noi presidiamo il territorio diventa centrale e diventa centrale perché chiama in causa qual è il ruolo confederale e cosa ci dobbiamo fare con questo territorio che non è solo come si dice noi essere presente alle macchinette del caffè quando i lavoratori parlano perché il territorio è un concetto complesso non è solo la presenza fisica è un'idea di sviluppo allora io faccio degli sulla realtà di Firenze faccio un esempio che credo sia una declinazione di quello che Emilio mi suggeriva con la relazione cioè a Firenze ha tutti i nostri settori diciamo della nostra categoria articolati in maniera forte nel territorio e quindi la crisi ha tantissime sfaccettature abbiamo le imprese farmaceutiche che ormai subappaltano e terziarizzano la produzione quindi contraddizioni che non esistevano nella realtà farmaceutica che improvvisamente esistono perché sei esposto alla competizione internazionale molto più di prima sei un terzista di hai una situazione in cui le piccole imprese sono scarsamente bancabili e quindi non hanno la liquidità per andare avanti quindi ci sono procedure concorsuali a getto di arroico praticamente non si riesce a fermare nulla e poi abbiamo delle contraddizioni di cicli produttivi che magari finiscono nell'illegalità come è stato detto che riguardano magari aziende del tessile o della moda però ci sono per esempio anche delle realtà positive e faccio due esempi per capire cosa mi è capitato di vedere penso all'Eli Lilli la quale sta facendo grandissimi investimenti farmaceutica fa insulina lì a Sesto Fiorentino che fa grandissimi investimenti e sta implementando le sue linee quando è stato chiesto diciamo qual è l'elemento che fa decidere per un'implementazione qui qual è il valore aggiunto delle relazioni sindacali e industriali che abbiamo la risposta è stata sostanzialmente la traduco così è in fondo che abbiamo un terreno di alta scolarizzazione in cui la gente quando è scolarizzata ci rimane volentieri quindi noi per noi per gli offeri qualificati di cui abbiamo bisogno questo territorio è perfetto perché noi abbiamo bisogno di avere mano d'opera che si qualifica e produce altre mano d'opera qualificata un posto in cui si sta bene perché siamo in Toscana un posto in cui c'è un'alta scolarizzazione ci garantisce che quelli scolarizzati piano piano noi abbiamo una mano d'opera che possiamo inserire quindi la competitività non è stata adattata se c'è l'aeroporto se c'è l'autostrada ma se ovviamente c'è quest'altra scolarizzazione e quindi un territorio che risponde l'altro esempio ovviamente è l'insediamento di griff costanti nel mondo della pelletteria e delle calzature che sono insediate nel nostro territorio perché? perché c'è un sapere artigianale che sa fare artigianalmente produzioni e quindi viene una griff sa che può vendere un prodotto di alta gamma avendo una filiera molto flessibile è un sapere benedetto credo nei saggi vernacolare cioè non è un sapere che si insegna a scuola il territorio lo possiede allora cos'è che ci deve distinguere? io penso che se noi riusciamo nella negoziazione a riprodurre con le aziende quel saper fare che ha definito il loro insediamento lì dentro noi ovviamente abbiamo un saldo positivo cioè nelle relazioni tra imprese e territorio riproduciamo le condizioni stesse dell'insediamento e degli investimenti delle imprese mentre abbiamo imprese che ovviamente vengono in un territorio depauperano quel saper fare e quelle relazioni quindi dobbiamo essere in grado di leggere questo e di contrattare una presenza sul territorio quando noi parliamo di tracciabilità con le aziende non ne parliamo semplicemente solo perché diciamo come dire ci serve che tu sia trasparente noi diciamo ed è una cosa che riprendo dalla relazione di Emilio che il perimetro della tua responsabilità non si limita ai tuoi dipendenti ma il tuo rapporto col tuo prodotto col consumatore e con il territorio quando tre tracce rendi trasparente ciò che sei stai dicendo a tutti a tutto il territorio questo sono io non questa è la mia fabbrica sono fatti miei poi me la vedo col sindacato quanto ridistribuisco la ricchezza se la ridistribuisco ma io mi faccio carico delle contraddizioni e di quello che è l'impatto sul territorio delle mie condizioni di lavoro questo è il tema centrale quando noi andiamo a negoziare con alcune griff poche per la verità ma riusciamo non solo quali sono i livelli di fornitura e subfornitura come loro gestiscono i trasferimenti e i margini che danno le aziende di fornitura e subfornitura e qual è la mappatura del know-how che fanno quando facciamo questo noi in realtà non solo diamo un contributo perché anche i lavoratori delle filiere siano rappresentati ma lo facciamo mettendo in capo una responsabilità a quell'azienda come quando noi chiediamo quali sono i contratti atipici in un'azienda quanti sono gli interinali o quante cooperative hanno perché ampliamo basta mettere in trasparenza per avere terreno negoziale molto spesso il tema della tracciabilità non è un tema legato semplicemente a vendere ma è un tema di presa in carico della situazione quindi il sindacato diventa un soggetto di controllo sociale partecipato di questo rapporto col territorio si candida a essere il soggetto che svolge questa funzione di controllo e di partecipazione perché è il soggetto a cui l'azienda mette in trasparenza le proprie contraddizioni le proprie modalità è ovviamente un ruolo di attivazione e valorizzazione che il sindacato svolge in rapporto al consumatore alle istituzioni come si articola il territorio e all'impresa stessa questo è un tema negoziale importantissimo lo dico perché e quindi scelgo solo questo tema di tutti quelli che Emilio perché articola una modalità di cercare le relazioni sindacali che fa del sindacato un luogo ripeto di attivatore sociale nel rapporto col territorio quando cercavo di salvare la Riccia Arginori e parlavo con l'azienda che poi l'ha comprato e cercavo di spiegargli come mai era un grande affare a comprare la Riccia Arginori e salvare i lavoratori Bernardo non puoi fare due interventi però finisco sono all'ultimo fatemi fare la chiusura ma ne hai fatti due vero che ti avevo chiamato due volte ma una volta sola dovevi parlare la domanda che mi è stata posta da quell'azienda al di là di quanto costa quanto non costa ma quante storie racconto quando vendo quel prodotto quante storie racconto molto spesso noi vendiamo la nostra storia del nostro saper fare quello che c'è nel nostro territorio e noi dobbiamo essere in grado di portarlo a far vivere e di costringere le aziende a non sfruttarlo ma a amplificarlo per continuare ad avere un tessuto produttivo che dia qualità lavoro e del lavoro faccia un valore e non semplicemente una logica di struttura sfruttamento Ambra Tessera si prepari Svartse Stefano chiedo scusa per la pronuncia però insomma io appena l'italiano riesco a capire allora buongiorno a tutte e a tutti vorrei iniziare questo mio intervento dall'immagine che abbiamo qua dietro abbiamo scelto un padre un figlio che indicano un paesaggio che indica una prospettiva un futuro credo che questo sia quello che dobbiamo fare come sindacato avere la capacità cioè di guardare in prospettiva e di essere molto bravi a tenere in considerazione le problematiche che però viviamo oggi nel presente i nostri documenti così come le relazioni che ho sentito io arrivo da Milano quindi il congresso milanese quello regionale ed oggi quello di nazionale portano grande attenzione a quello che è successo in questi anni e fanno delle analisi politiche economiche di quello che è accaduto è un po' più facile fare le analisi dopo che gli eventi avvengono a volte è più difficile stare nelle situazioni critiche quando la criticità è calda quando l'Italia qualche anno fa rischiava con lo spread il fallimento e quando siamo in situazioni così delicate noi sul territorio delegati funzionari segretari che stiamo a contatto con la gente dobbiamo a mio avviso non dimenticare mai affinché si possa creare quel meccanismo di prospettiva le parole dei grandi padri della CGL che possiamo riassumere nel comportamento di Vittorio nelle parole di Luciano Lama che è stato ripreso in Lombardia a Milano che dicevano una cosa fondamentale e che sono la guida il faro nei momenti difficili e bui come questi Lama diceva e non lo diceva diciamo in casa di amici passatemi l'espressione al congresso della FIOM di saluto di Luciano Lama disse a quella platea non abbiate paura delle novità non abbiate paura di cambiare non abbiate paura di guardare avanti Di Vittorio anzi sempre Lama diceva che se siete coerenti e chiari i lavoratori vi capiranno e capiranno anche le debolezze di un sindacalista o di una sindacalista ma e qui richiama molto le parole di Di Vittorio che dava addirittura l'esempio in prima persona prima di tutto si dà l'esempio si fa si lavora otto ore e poi si pretende ma prima bisogna essere e dare l'esempio oggi vuol dire essere coerenti essere trasparenti essere chiari e sinceri con i lavoratori l'intervento del compagno di stamattina mi ha dato la dimensione quello dopo Cremaschi perché la dimensione di Cremaschi quello dopo mi ha dato la dimensione di come pur nella difficoltà di colui che viveva sulla sua pelle il dramma di dire a tutti noi attenzione però lo sciopero costa in questo momento pensiamoci bene pensiamo bene ogni azione che facciamo perché siamo noi noi lavoratori oggi noi anche noi io mi ci metto come lavoratore come cittadino oggi che vive cittadina che vive oggi in questo paese ad avere un problema di reddito e quindi gli strumenti usiamoli ma usiamoli bene con attenzione perché se ci giochiamo la credibilità con i lavoratori è lì che abbiamo perso la partita non solo se un governo ci chiamo non ci chiamo o al metodo che piace a noi ma quando i nostri lavoratori ci guardano e ci vedono incoerenti non ci capiscono e allora se abbiamo detto che la riforma delle pensioni è stata pesante è stata difficile e nel nostro documento del lavoro decide il futuro mettiamo alcuni cambiamenti della riforma fornero ma non chiediamo come fa la lega da noi la raccolta di firme per l'abolizione chiediamo delle modifiche attenzione poi a dire adesso chissà cosa dobbiamo fare perché poi li chiarichiamo di aspettativa che non avrà un seguito e secondo me allora manchiamo di coerenza nei loro confronti e manchiamo anche di rispetto al nostro ruolo di prospettiva il ruolo di prospettiva per me oggi è che guarda il bambino che può essere mio figlio io ho due figli piccoli mi spingano a fare qualcosa di concreto che mi permetta un domani di guardarle in faccia e di dire tua mamma c'era e ha fatto qualcosa di importante qualcosa come dire scusate che ha cambiato per quello che si poteva fare e questa cosa che richiama un po' la passione che ognuno di noi ha a volte ha il limite del sistema difficile in cui viviamo oggi degli spazi stretti ma se io devo fare un sacrificio in prospettiva per qualcosa di importante dopo ho la forza di reggerlo e quindi noi ai lavoratori al futuro dobbiamo dare quella prospettiva quella voglia di costruire un futuro vero ma che abbia nelle fondamenta le possibilità oggi di dire che ci sono dei sacrifici che qualcosa riusciremo a farla e che qualcosa no ma non perché siamo deboli o perché qualcosa non ce la facciamo a tenerla dentro e allora la CGL oggi abbia la forza di essere precisa su alcuni passaggi su alcune pretese su chi decide di tutelare sapere che qualcuno arriverà un po' come dire non ci arriverà non riuscirà a fare tutto ma questo non vuol dire essere incapaci non vuol dire soffrire il giudizio degli altri vuol dire essere realisti sapere quali sono in maniera pragmatica gli spazi e le capacità di gestire quelle situazioni nel nostro documento il documento del lavoro decide il futuro parlo di quello anche se ce ne sono due ma mi baso su quello quello di Susanna Camuso quello che abbiamo portato in votazione diciamo chiediamo chiediamo al governo chiediamo a chi ci ascolta di riformare la normativa sull'IRPE chiediamo di adeguare la tassazione delle rendite finanziarie lo chiediamo noi se oggi arriva in un modo magari non tanto che ci piace perché Renzi ha un modo tutto suo ma arriva e l'abbiamo chiesto noi nel nostro documento e quindi io preferisco dire ai lavoratori guarda è arrivato dal governo Renzi in un modo un po' bizzarro che è tipico di questa presidente del consiglio magari non ci ha chiamato ma sappi che quella cosa lì era quella che ti ho raccontato quando ti ho fatto l'assemblea te l'ho detta io quella cosa lì e sono contenta che sta arrivando perché ti darà una mano a livello di reddito e se c'è un po' più di risorse economiche oggi in busta paga magari riusciamo a far ripartire un po' questa economia interna depressa magari riusciamo a sollevare un po' di criticità delle famiglie che se devono dare a quel bambino una pizza al ristorante devono scegliere se farne prendi una margherita e neanche il dolce perché se no non riusciamo ad andare fuori a mangiare la pizza perché questa è la situazione e alcuni non ci vanno neanche più se capiamo e se sentiamo davvero il dramma di questa situazione ci spingiamo a chiedere al governo tutte le riforme possibili per aiutare questo aspetto e l'altro a mio avviso riguarda il problema centrale che è la disoccupazione questo paese deve trovare il modo con tutte le capacità dei suoi talenti che riguardano sia il tipo di governo che oggi abbiamo che le parti sindacali e io li ritendo comunque talenti perché per la prima volta dopo tanti anni non abbiamo situazioni di conflitto di interessi ma sia Letta sia Renzi possono piacere o no nello stile ma non sono lì per interessi personali come era il governo precedente sono lì per degli obiettivi li gestiranno bene o male ma c'è un obiettivo che si chiama paese e questo obiettivo che si chiama paese deve portare tutti noi a vedere in prospettiva e non solo col microscopio il microscopio è lo strumento che usiamo oggi quando facciamo i contratti quando facciamo le nostre trattative andiamo ad analizzare con precisione quello che scriviamo ma oltre al microscopio che nel nostro mondo è tipico di chi fa un'analisi qual è l'altro strumento? è il telescopio è la prospettiva è il sogno cosa vado a dirgli? che cosa voglio? non da qui a un mese ma da qui a che cosa vogliamo di questa CGL? ce la farà rimanere così com'è o in prospettiva piaccio o no dovrà cambiare? e allora a mio avviso il cambiamento è meglio governarlo che subirlo e governarlo vuol dire avere il coraggio di dire che siamo bravi per certe cose e che alcune cose non le facciamo bene anche noi siamo umani non è che siamo dei robot alla per siamo umani alcune cose non ci vengono bene sappiamo che soffriamo me ne viene in mente una è da tanti anni che c'è la norma antidiscriminatoria del 40% ma la battaglia per il genere all'interno dei direttivi nelle segreterie sarà un paio due mandati che li facciamo e quella norma lì nello statuto della CGL c'è da mo e tutto un tratto è diventata cogente ma c'è sempre stata e adesso abbiamo sistemato i livelli diciamo tra virgolette di numero orizzontale ma se guardiamo il verticale vediamo e quindi anche lì piccoli passi ci mettiamo a volte tanto a farli noi ma dobbiamo avere la capacità di dire questa parte non l'abbiamo fatta bene e se una cosa c'è da quando c'è lo statuto della CGL la rendiamo attiva e vera negli ultimi otto anni che ricordo io quando sono entrata io non se ne parlava proprio per cui ecco ma questa obiettività e questa sincerità premia perché ci possiamo guardare in faccia e dire alcune cose vanno altre no ma qual è la nostra forza dire quelle che non vanno cambiamole cambiamole perché saremo meglio come sindacato sarà un luogo sarà un luogo dove staremo meglio anche noi e da questo punto di vista io mi auguro che le indicazioni che sono state date anche da Miceli nella sua relazione di voglia anche di inserire dei cambiamenti siano oggi frutto di una relazione ma siano poi frutto di un percorso coerente che le attui perché sentiamo tante relazioni conosciamo tante persone abbiamo tanti interventi in questi periodi congressuali ma la cosa che lascia più perplesso poi è che finiscono nel niente allora se abbiamo la forza e delle belle idee il coraggio di dire questo punto non va bene cambiamolo sappiamo che ha un costo ma facciamolo è per il bene di questa CGL per il bene di noi che ne facciamo parte e per dare futura prospettiva a quel bambino lì grazie 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 grazie